La storia ci insegna che il carattere dei popoli, le virtù o i vizi, l'energia o l'indolenza o i lumi o l'ignoranza, non sono quasi mai l'effetto del clima o della particolar razza, ma l'opera del governo e delle leggi. Che tutto dalla natura viene dato a tutti, ma che il governo conserva questa comune eredità ai suoi soggetti o negli spoglia. Tale verità, più che da qualunque altra, viene luminosamente dimostrata dalla storia d'Italia. Si avvicinino le diverse razze di uomini che successivamente abitarono questa terra di grandi memorie. Si confrontino le loro qualità caratteristiche, la moderazione, la dolcetta, la semplicità dei primi etruschi, l'austera ambizione, il maschio coraggio dei coetanei del cincinnato, l'avidità e l'ostentazione dei partigiani di Verre, la mollezza e l'aviltà dei sudditi di Tiberio, l'ignoranza dei romani dei tempi d'onorio, la barbarie degli italiani soggiocati dai Longobardi, la virtù loro nel secolo XII, lo splendore del V-X e finalmente il decadimento dei moderni italiani. Eppure lo stesso suolo alimentò questi esseri di così diverso carattere, lo stesso sangue circolò nelle loro vene, perciò che le barbare nazioni che vi si frammischiarono, perdute per così dire nel vasto mare degli indigeni, non hanno potuto in vero modo modificare la fisica costituzione degli uomini che l'Italia produceva. Ma se la natura rimase la medesima per gli italiani da ogni tempo, cambiò frequentemente il governo e le sue mutazioni precedettero sempre o accompagnarono le mutazioni del carattere nazionale e le cause non furono mai tanto evidentemente legate agli effetti. Gli Etruschi, che precedettero i tempi romani, sono i primi popoli d'Italia di cui la storia abbia fino a noi tramandato poche e incerte memorie. Le Maremme, oggi deserte, erano allora sparse di borgate e la terra, sempre fertile in ragion del travaglio, era per loro una sorgente inesausta di ricchezze in gregge ed in grani. La lunga prosperità di cui godettero, avendo loro permesso di occuparsi delle scienze e delle arti, se non furono superiori ai greci, li precedettero almeno nella gloria letteraria. I poeti chiamarono Età dell'Oro il Regno di Saturno nell'Etruria e non si scostarono affatto dalla verità. Avevano gli Etruschi adottato il governo della prosperità e della libertà, il governo federativo. Dia si lode ai popoli liberi, i quali, non lasciandosi sedurre dall'ambizione, preferiscono alla potenza e dalla gloria il migliore d'ogni bene, la libertà. Essi chiedevano al loro governo non conquiste novelle, ma universale amore e moderazione. Onoriamo le nazioni libere che preferiscono ad ogni altro il governo federativo, non tanto perché si limita a difendersi dalle straniere aggressioni, ma più ancora perché non si lascia affascinare dai prosperi avvenimenti o sedurre da ambiziosi progetti. Negli Etruschi erano allora i soli popoli federati d'Italia, che anzi i Sabini, i Latini, i Sanniti, i Bruzzi e quant'altre nazioni guerreggiarono contro Roma ebbero tutte un governo federativo. Tali leghe non fecero, è vero, splendide conquiste, ma seppero solidamente stabilirsi, perciò che non si soggiacquero alla romana possanza che dopo una lunga prosperità. Queste nazioni, sì poco conosciute e così degne della comune ammirazione, scomparvero e con loro perdette l'Italia, la felicità, le ricchezze e la popolazione, la vera libertà. Il popolo romano, quel popolo re, sacrificò tanti beni allo splendore d'un gran nome, alla perniciosa gloria delle conquiste. Che se le federazioni dovettero finalmente cedere al fatto di Roma, l'ostinata lotta che sostennero nel corso di tre secoli prova abbastanza che la debolezza non è un difetto intrinseco delle costituzioni federative. Esse dovettero soccombere, perché non è dato, specialmente ai governi liberi, da avere troppa lunga durata, e la felicità è un bene così sfuggevole, così straniero, per così dire, all'umana specie, che in una istituzione è valevole da assicurarle nel possesso. Se una di quelle calamità che sempre minacciano la nostra specie investe una nazione libera, se la peste condensa gli uomini nei sepolcri, se una lunga guerra impoverisce lo Stato, se scarseggiano i prodotti della terra, se languisce il commercio, se manca il travaglio ai lavoratori, i mali presenti, il timore dell'avvenire, bastano a sovvertire un governo paterno, tutta la di cui forza, essendo posta nell'amore dei sudditi, non può mantenersi se non quanto dura la loro felicità. La tirannia, per il contrario, prende vigore e consistenza in mezzo alle calamità generali, in perciò che, quanto più grandi sono le sventure che lo primono, tanto meno una nazione può fare di fronte all'oppressione. Anzi, non trova miglior consiglio per resistere a nuove sciagure che quello di porre tutte le sue forze in arbitrio del governo. Le federazioni italiane soggiacquero a quelle sventure dalle quali verun governo può garantire le popolazioni, e con le federazioni ebbero fine gli sforzi dell'Europa per l'indipendenza. Quando i sanniti furono oppressi, il mondo intero non poté più resistere alla potenza romana. Questo gran popolo, la di cui gloria riverbera ancora sull'Italia, riconobbe le sue conquiste e le sue virtù dal primo governo, che altro non era che una nascente aristocrazia, la quale, per essere nuova, doveva necessariamente essere fondata sulla preeminenza del merito, ed invece d'avvilire gli ordini inferiori del popolo, li rendeva più intraprendenti, con gli stessi sforzi che faceva per sottometterli. Più tardi, il lusso e la cupidigia dei romani, lo spopolamento delle campagne, l'avvilimento della plebe, furono l'effetto necessario delle loro vittorie, delle vaste conquiste, dello stabilimento della monarchia universale e di quello stesso governo che loro diede la propria eccessiva potenza. Allo stabilimento del despotismo tenne dietro sotto gli imperatori la perdita di tutte le virtù. A sovrani militari portati sul trono dai delitti, non dalla nascita o dalla virtù, non potevano ubbidire che gli schiavi più vili e abbietti. Costretti a valersi sempre della forza, distrussero la pubblica opinione, che era in addietro il principale incoraggiamento e la più cara ricompensa della virtù. Il despotismo ricondusse la barbarie, la quale fece poi a vicenda rinascere il valore e la libertà. Tanto celebrato è il glorioso secolo d'Augusto e fu poi l'epoca fatale in cui gli uomini avviliti perdettero il coraggio, l'energia, il talento. Augusto raccolse, è vero, i frutti della libertà e della repubblica, ma cinque secoli di vergogna e d'avvilimento furono le tristi conseguenze del suo regno e del mutato governo. Non vi vollero meno di altri cinque secoli di barbarie per far dimenticare agli uomini le funeste lezioni del despotismo, per restituire loro l'energia, per creare presso dei medesimi i soli elementi onde può formarsi una nazione. Questa nazione uscì finalmente di mezzo al caos che pareva avesse inghiottito il mondo. Il cuore degli italiani si riaprì di nuovo all'amore della patria e della libertà, e non mancò loro il coraggio necessario per acquistare e conservare questi preziosi beni. A lato delle grandi virtù non tardarono a svilupparsi ancora i grandi talenti, le scienze e le arti, coltivaronsi felicemente, di modo che quando Costantinopoli cadde in potere degli ottomani, l'Italia trovavasi preparata a ricevere il prezioso deposito della greca letteratura, che conservatasi in mezzo alle rovine delle province, poteva soccombere sotto quelle della capitale. L'Europa deve alle repubbliche italiane la ricca eredità dell'antica sapienza. Ed appunto questa seconda epoca delle virtù, dei talenti, della libertà, della grandezza, è quella che mi sono proposto di far conoscere. La storia della Repubblica Romana, scritta da tanti eccellenti ingegni antichi e moderni, è di tutte la meglio conosciuta, e non senza ragione si alimenta la gioventù con lo studio delle cose spettanti ad un popolo così grande e così glorioso, e di cui i destini fissarono, per così dire, quelli del mondo. Quel vivo interesse che aveva citato la Repubblica Romana ci condusse altresì a studiare le rivoluzioni dell'impero, quando ancora perduta la libertà, il valore, l'energia, protraeva una vergognosa esistenza nel vizio e nella schiavitù. Quandounque noiosa riesca la storia di ogni altro governo dispotico in decadimento, si segue fino alla sua totale dissoluzione quello dell'impero d'Occidente. Dopo dieci secoli d'oscurità, torna l'Italia ad essere ben conosciuta dal cominciamento del XVI secolo. Dal regno di Carlo V in avanti, tutti gli stati d'Europa formano come una vasta repubblica, le di cui parti sono talmente connesse che non è possibile di separarle per seguire la storia di una sola popolazione, di modo che, studiando la storia di una nazione, si impara altresì quella di tutto il mondo incivilito. Queste due epoche, rispetto all'Italia ugualmente illustrate dai gregi storici, sono divise dal mezzotempo nome con cui vengono precisamente indicati i dieci secoli che scorsero tra la caduta di Roma e di Costantinopoli. La storia d'Italia dei mezzi tempi, di quei tempi che lo storico più grande dell'età nostra chiamò i secoli del merito sconosciuto, formerà il soggetto della presente opera. Questa storia deve terminare con l'anno 1530, quando Fiorenza, l'ultima delle repubbliche dei mezzi tempi, fu soggiocata dalle armi spagnole e papaline, onde innalzare sulle di lei rovine la dinastia dei Medici. Le tre altre repubbliche italiane che protrassero la loro esistenza oltre l'età di mezzo, cambiarono all'epoca della caduta di Fiorenza la loro Costituzione, di modo che ebbe allora la fine della libertà d'Italia. E la sorte di così bella contrada, fatta preda a vicenda di vicini ambiziosi e potenti, o della perfidia di piccoli principi, non altro sentimento può accitare nell'animo nostro che quello della compassione. L'età di mezzo comincia precisamente l'anno 476, epoca in cui Odoacre, dopo aver fatto perire il Patrizio Oreste e ridotto in ischiavitù l'imperatore Augustolo, pose fine all'impero d'Occidente. Ma non è propriamente la storia d'Italia che noi abbiamo proposto di scrivere, bensì quella delle repubbliche italiane. L'oppressione del guasto ad una sventurata provincia, ove più non rimane alcuno spirito nazionale, alcun vigore, alcun sentimento virtuoso e sublime, può ben formare un quadro da presentarsi utilmente allo sguardo degli uomini, onde far loro conoscere le funeste conseguenze di un governo corruttore. Ma non può essere il soggetto di una perfetta storia. La ripetizione degli stessi atti di crudeltà e di bassezza affatica lo spirito, rattrissa il cuore del lettore ed avvilisce il carattere di quell'uomo che ne facesse troppo lungo argomento dei suoi studi. Non è già la storia dei paesi che noi amiamo di conoscere, ma quella delle popolazioni, e questa non incomincia che con lo sviluppo di quel principio di attività che le costituisce nazioni. La storia d'Italia sotto la dominazione dei barbari è piuttosto quella delle nazioni conquistatrici che quella dei popoli sottomessi. L'Italia, rinvigorita dall'unione del suo popolo con i popoli settentrionali, scossa da una scintilla di quella libertà che più non conosceva, è resa energica dalla dura educazione della barbarie e della sventura. L'Italia, dopo essere stata a lungo tempo una debole e mal difesa provincia dell'impero romano, diventò non già una nazione, ma un semenzaio di nazioni. Ogni sua città fu un popolo libero e repubblicano, ed ogni città del Piemonte, della Lombardia, della Venezia, della Romagna e della Toscana meriterebbe una storia parziale. Ed ognuno infatti può presentare una biblioteca di cronache e di scritture nazionali. Grandiosi caratteri svilupparono in questi piccoli stati e vi germogliarono le più vive passioni, coraggio, eroismo, virtù ignote alle grandi popolazioni, condannate per sempre all'indolenza e all'oblio. Le repubbliche italiane dei mezzi tempi, le quali si resero gradatamente libere dal X al XII secolo, ebbero durante la loro indipendenza grandissima parte all'incivilimento, alla prosperità del commercio, all'equilibrio della politica d'Europa. Pure sono conosciute dalla maggior parte degli uomini mediamente versati nello studio della storia, perché l'intera vita appena basta alla lettura delle parziali loro storie, non essendosi finora trovato chi si prendesse l'incarico di riunire sotto un solo punto di vista una storia generale. Si è potuto scrivere la storia della Svizzera perché la loro federazione presentava un punto centrale. Si poteva fare lo stesso della Grecia perché la gloria ad Atene richiamava tutti gli sguardi sopra di sé e permetteva di collocare quasi accessori del quadro, nelle parti meno illuminate, i popoli suoi rivali o sudditi. Ma l'Italia nei tempi di mezzo presenta un tale labirinto di stati uguali ed indipendenti che ha ragione si teme di smarire il filo. Noi non ci dissimuliamo quest'essenziale difetto dell'argomento che abbiamo preso a trattare, ma speriamo che quando anche i nostri sforzi non venissero coronati dal prosperoso successo, il lettore vorrà saperci buon grado di ciò che abbiamo fatto per ottenere l'intento. Divideremo in due parti, pressoché uguali, quel periodo di quasi undici secoli che divide la storia dell'impero d'Occidente dal regno di Carlo V. I primi sei secoli precedettero e prepararono le nostre repubbliche. I cinque ultimi abbracciano i tempi della loro durata. Tratteremo sommariamente il primo periodo, consacrando quasi introduzione i primi sei capitoli dell'opera a dare contezza di quei tempi che nascondono tra le loro tenebre il rinascimento delle virtù pubbliche in seno alla barbarie e lo sviluppo del carattere nazionale. Col settimo capitolo soltanto entreremo di proposito nella nostra storia e dalla pace di Worms, conchiusa tra la chiesa e l'impero nell'anno 1122, seguiremo passo passo le nostre repubbliche, tenendo conto degli sforzi che fecero per assicurarsi l'indipendenza e di quanto operarono sia nella guerra della libertà che sostennero contro Federico Barbarossa, sia nei posteriori tempi, quando l'una presso l'altra, cedendo alla forza o al tradimento, caddero in podestà di qualche principe.